Il regime di semilibertà a cui era sottoposto non ha scoraggiato un 35enne dall'assumere comportamenti contro l'Egem, intercettati prontamente dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Taranto. Lo scorso weekend, durante l'attività di controllo per la prevenzione dei reati, i militari hanno fermato l'uomo a bordo di un'autovettura mentre era in procinto di rientrare presso la casa circondariale di Taranto. La successiva perquisizione del mezzo ha consentito ai carabinieri il rinvenimento sotto un sedile di una pistola con matricola brasa e come tale da ritenersi clandestina. L'arma, corredata di caricatore e proiettili, sarà analizzata dal raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma per verificare se la stessa pistola sia stata utilizzata per la commissione di altri reati. Per il 35enne si sono così riaperte le porte del carcere di Taranto con la conseguente sospensione della semilibertà.